Dove è il rive su un frutto? Si lo so ma qui non c'è, non è di questo colore dai, è il viola rive Si, come sai che si fa in questo italiano? E' così che ci fanno i gelati italiani E' po' l'arte E' la preparazione del marmorino fino alla cucina Eh si eh, è una pasticceria Oh, ricordatevi però che diventa la metà più chiara Si, è la piaccia della mochila E' la piaccia del marmorino fino alla cucina